Ciao ragazzi, sono Santi. Oggi è un grande giorno perché ho tante cose da dirvi e sono qui per parlare appunto con voi di come è andato il primo live e appunto delle mie impressioni, emozioni e quant'altro. Innanzitutto come state? Tutto bene, dai eh, sempre forti anche in questa situazione di covid, bisogna insomma stringere i denti e tenere duro, prima o poi si ritornerà a ballare con dei gran vodka lemon. No dai, a parte gli scherzi. Io sto bene, sono ancora un po' scombussolato dalle emozioni di giovedì, devo ancora un po' realizzare che sta succedendo tutto questo proprio a me, però sono molto contento. Per quanto riguarda il live, è andata molto bene secondo me, in sala prova abbiamo provato tanto la canzone appunto che ho portato, il mio singolo Bonsai, e contento del percorso che stiamo facendo insieme a Emma, è un grande giudice secondo me, e a tutta la squadra che comunque ci sta aiutando, quindi anche Frenetic Endoran, un saluto, e Valerio anche. Siamo una grande squadra, lavoriamo tanto, bene, e insomma è in fretta, perché comunque i tempi sono questi, abbiamo anche delle restrizioni da non sottovalutare, quindi sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo insieme. Ovviamente Emma è tanta roba, insomma, io come ho sempre detto, si è creato un gran feeling fra me e lei, ma anche con tutti gli underwomen in generale, anche con Frank e con Francesco. Secondo me, insomma, cioè siamo stati molto fortunate di avere lei come giudice, quindi sono molto contento. Ritornando al discorso del live, ripeto, secondo me è stato molto bello, hanno fatto tutta una grande esibizione, parlando della mia, ovviamente, per quanto riguarda la critica che mi ha fatto Malone Lagnelli, del fatto che io sono comunque un po' acerbo, ha completamente ragione, credo che Mika e Derraton si siano, insomma, accorti, o come dire, insomma, ci hanno fatto caso, che era la mia prima esibizione senza strumento, e comunque non mi sembra di aver tenuto male il palco, anche rivedendomi, io non ho visto tutta questa, insomma, tutta questa insicurezza, ho inchiodato, eccetera, sicuramente ho tantissimo da imparare, però appunto vorrei far notare che era la mia prima esibizione senza alcun strumento da suonare, quindi per me è un grande risultato. Sicuramente Malone Lagnelli aveva le sue motivazioni, perché se no non me l'avrebbe detto, quindi sono sicuro che appunto lui me l'ha voluto dire per aiutarmi assolutamente, ovviamente, come ogni critica dei giudici che viene fatta, e nonostante questo appunto stiamo lavorando tantissimo con appunto Emma e i produttori in preparazione del secondo live, non vedo l'ora di farvi sentire la cover che porterò, mi rispecchia tanto, è una bellissima cover, e vi mostrerò anche lati che non ho mai mostrato a nessuno in questo percorso. Per quanto riguarda anche i miei compagni, come ho detto appunto secondo me, hanno fatto tutti una grande esibizione, si è creato un gran bel legame fra noi, di sincerità e di supporto l'un l'altro, che non è scontato trovare. Niente, detto questo, vi saluto, mi raccomando supportatemi, continuate ad ascoltare Bonsai, vi ricordo comunque che c'è il daily tutti i giorni, dall'unedì a venerdì, dalle 7.35 in poi, e niente, noi ci vediamo al secondo live giovedì, un bacione da Santi, ciao!